Parliamoci chiaro Guarda, questo è dove dorme Capitan Jeff Oh che cari, oh che cari Così per sempre Ma aspetta Allora, allora Lasciami qui Lasciami qui per sempre E ragazzi, come va? Io sono Feriniti E io sono Steph e che stai giocando a Roblox E dopo i takoon preferiti di Steph Come ti ricordo, McDonald's e pizza Oggi giocheremo al mio preferito Quindi un tycoon sui dolci? No, quello l'abbiamo già fatto Secondo te cosa posso preferire più dei dolci? Dai, vediamo se mi conosci bene Le moto Anche per un'altra cosa Allora gli animaletti Esatto, perché sì Oggi andremo a gestire un negozio di animali Oddio Che bello Non sono pronto psicologicamente Ma dai che ti piacerà tantissimo Allora fidati di me Ma fanno rumore, c'è puzza Allora Non lo so L'unica cosa che puzza È signor Maialino No, sei tu Signor Maialino Tu è Capitan Jeff Puzzate tantissimo Quindi non ci provare La ciurma di Capitan Jeff Sì è puzzolente Lo ammetto io stesso Però anche signor Maialino non scherza Allora no Signor Maialino è pulitissimo Lui oltretutto è stato molto geloso del fatto che tu ti sei creato la ciurma Ok Quindi ha fondato il club dei malvagi Sì quindi chiunque fa un complimento a signor Maialino Ok Lui lo legge e lo fa entrare automaticamente nel club E che cosa c'è nel club? Nulla La bellezza La bellezza E la malvagità Rispetto a una nave di pirati Mi sembra un po' Allora no ti ho già detto che signor Maialino è un castello Perché lui è un lord Ok Non mi convinci Comunque andiamo per favore Iniziamo subito Come vedete questo Tecun è un po' diverso dagli altri Perché la produzione starà sotto Esatto Mentre invece sopra avremo tutto il negozio di animali E' strana come cosa Però mi piace Voglio far vedere la prima cosa ai consolini Ok Allora come primo dropper abbiamo un unicorno viola Che compreresti tu? Assolutamente vorrei un pupazzo gigante di un unicorno viola Mi piacerebbe tantissimo Ma secondo te sono pupazzini da vendere ai bambini O sono i pupazzi che dai tipo al cane da morsicare? Bella domanda Eh lo so Allora sopra sono sicurissima che ci saranno proprio gli animali Ok Quindi non è un negozio di pupazzi Ma è un negozio di animali proprio capito? Posso farti notare che abbiamo un consolino che clicca il tasto al posto tuo? Sì infatti Antossamo è bravissimo Io questo lo riconosco E' bravissimo perché io non avevo la minima voglia di cliccare il tasto E infatti lui fa i soldi al posto nostro Guardate com'è bravo Guardate che consolino Apprezzatissimo Bravo sì assolutamente apprezzatissimo Allora abbiamo 1200 ci chiede già 4300 Ma è carissimo questo posto Ma vabbè tu pensa se dovessi aprire un negozio di animali Ovvio che è un po' caro Cosa c'è sopra da prendere? Allora stavo guardando Sto facendo un po' di produzione per aumentare C'è l'espansione del negozio Che costa 10.000 E da questa parte un'altra espansione Quindi immagino che il negozio diventerà gigantesco Perché ci sono due posti per espandere Posso farti notare una cosa? Cosa? Tu mi hai detto che è il tuo taekwun preferito? Però guarda Ci sono i pappagalli ma non ci sono i moialini Oh mio Dio farà carinissimo Vabbè ci sono le scimiette Io adoro anche le scimiette Lui è il fratello di Capitan Jeff Ah sì Lo riconosce Si vedono le somiglianze no? Sì Si notano Meno male Similissimi similissimi Però è più bellino lui perché è rosso No no assolutamente no Uh ma questo è un draghetto Non me l'avevi detto Eh lo so Carino Ma scherzi è bellissimo È bellissimo Comunque guarda i big money che stiamo facendo adesso Wow tantissimi Ora che abbiamo finito la produzione ci fanno tanti soldi Sì Quindi produzione finita possiamo andare a iniziare a costruire il negozio Esatto Uno Spim Va bene Ok Vabbè Carino ci sta Spim No Allora Non voglio vedere i muretti bassi È una cosa che mi fa arrabbiare Il signor maialino sta ridendo Perché appena ha visto il muretto basso aveva già capito Aveva già capito se la rideva Uh carini questi C'è spuglietti Abbastanza sì dai Allora Sono apprezzati No vabbè Cioè ci prendono in giro Mi sta Vabbè Questa è una posa in giro Ok Questa è una posa in giro Me ne vado Me ne vado Cioè Io non ci credo Penso che qua andranno le finestre giusto Guarda 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 Che cosa? Qua iniziano a esserci Guarda Parrot cage Quindi sicuramente sono gli spazi dove staranno gli animali Questi Questi saranno gli espositori per il cibo Aspetta Vieni qua Cibo per cani Non ci credo Pedigree Dovremmo censurare tutte le marche Questa è pubblicità occulta Guarda un altro Poi un'altra colonna Uh abbiamo aggiunto i crocantini per i gatti I crocantini per i gatti Questo gatto è uguale a Peppe È uguale al nostro gatto È uguale Ma l'hai mandato a fare le pubblicità e non mi ha detto nulla Cioè è carinissimo Facciamo un sacco di soldi dal nostro gatto Poverino Ok Ma verranno anche i clienti a comprarci le cose Sinceramente non ho idea Guarda Non vorrei dire stupidaggini Ma non ne ho idea Non ne ho idea Abbiamo altri 30.000 da spendere Allora Ah si vedi Qua ci sono le finestre da premere così E le compri una ad una Vedi Che carino Belline però queste finestre Mi piace Mi piace la struttura Ovviamente le devo fare tutte Perché ormai Dopo che inizio Dopo che inizi Devi per forza finire Un acquario Uh Guarda c'è la nave La vecchia nave di Capitan Jeff Questa è la nave affondata di Capitan Jeff Il che dimostra che lui è un pessimo capitano No ma ora ne ha una più bella No no Capito E sono cose che ti inventi In realtà la sua nave affondata ha fatto una figuraccia Parliamoci chiaro Questa è dove dorme Capitan Jeff Oh che cari Oh che cari Bellissimo Ma questi sono i cugini di Capitan Jeff Sì 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 O i genitori No no sono i cugini E sai la differenza tra Capitan Jeff e loro? Che Capitan Jeff Essendo un pirata Ha avuto la libertà Mentre loro sono obbligati a vivere in gabbia Ma poverini Eh lo so È la dura vita dei papagalli Allora anche se siete in gabbia Vi acudirò benissimo Non vi preoccupate Io non posso vedere gli animaletti in gabbia Non ci credo Sono le cucce per Cosa ci sarà qui dentro? No credo che non ci possiamo mettere nulla Ah le cucce da comprare Quindi dici le cucce da comprare per gli animali Certo Bello questo Ok Allora posso finire le finestre 250 Sì vai finisci tutto Poi altri 250 E altri 250 Le finestre le abbiamo finite Guarda come sta diventando bellino È carinissimo Io te l'ho detto che è davvero carinissimo Comunque Sì Dovremmo aspettare altri soldi Voglio fare una cosa con te Dimmi Vieni Seguimi Ti seguo Seguimi Sì 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 Dato che dobbiamo aspettare C'è una cosa bellissima da fare in questo Ti devo preoccupare Un po' Ok Un po' È una cosa bella ma anche molto difficile Ti avverto Preparati Sei in forma? Sì Ok Sì 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 Ho mangiato bene Ho fatto una bella colazione A furia di mangiare tutte quel McDonald's E quelle pizza Ho detto magari non È un po' appesantito La mia pancia è fatta apposta per digerire queste cose Vieni qua Ok Che devo fare? Aspetta Ecco Devi prendere uno skate Come? Quello che c'è in terra Ok 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 ce l'ho fatta Perché sono un po' bagatti Lo metti in terra Sì Buttati Ok Ecco qua Ce l'hai fatta? Ok E guarda cosa abbiamo davanti a noi Uno skate park Oh mio Dio Quindi ci possiamo sfidare a fare le rampe Ok Aspetta è difficilissimo Allora Aspetta Puoi anche saltare Puoi anche saltare capito E fare queste sbarre Cosa è successo? Sì ma tu cosa stai facendo? Adesso scivolate Rialzati Come nella realtà non posso Rialzati Come nella realtà farei questa fine se provassi ad usare uno skate Vedi almeno è realistico Ok Aspetta ce la posso fare Mi giro Sì Ok Cambiamo Ah no ancora Cosa stai facendo? Hai fatto una capriola mortale Vedi perché in realtà sono bravissima Non ti volevo sminuire Capito? Allora Ok Pronto Vieni a fare qualcosa Stai andando nella rampa più grande? Sì 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 Ok Aspetta Capitan Jeff non ha paura di queste rampe Come hai fatto a salirci? È difficilissimo Lo so Sono un talentonato Ora devo fare il retromarche Oh No 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 Non cadere Allora devi salire però eh Allora Aiuto Falla la retromarche Donazione Vabbè Ok Sono salito Io vado Sei pronta? Aspetta mi sposto vai Guardami Oh Oh yeah Bellissimo È stato fantastico Ma scherzi Sono troppo bravo Con le spade Benissimo Adesso faccio questa Io faccio questo Aspetta No Dobbiamo Basta lascio perdere Ecco Torniamo al negozio E vediamo quanto siamo Grazie Quanto abbiamo accumulato Sei molto gentile Allora Ok vai Dovremmo essere pieni soldi Perché ne abbiamo già 40.000 E qua ne abbiamo 100.000 Wow La produzione è stata un po' lenta all'inizio Ma poi si è ripresa bene Guarda Sei pronta? Sì Sei pronta? Spim Eh ma questo bello grande Vedi almeno non è una cosa piccolina Che tu Di muretti piccoli Guarda come bello Non ci credo No Oh mio Dio Ne voglio una Peppe la distruggerebbe Ne sono già sicura Guarda Però è carinissimo Però è troppo carina Allora Perché tutto quello che tocco si rompe? No guardami ti prego Dove sei? Tutto in alto Alza qui sotto Guarda le tue gambine Dall'altra parte del soffizio Sono Spider-Man Aspetta Aspetta Vai al pieno di sotto? Esatto Vai al pieno di sotto? Oh mio Dio Allora Io di solito mi nervosisco per i bug Ma questi sono talmente fantastici Che meritano Guarda Non sono molto felice Che mi hai rotto lo sgobello Sinceramente Non ti perdonerò facilmente Allora Questo che cos'è? Ah no È proprio rimasto rotto Non si aggiusta più Allora Ok Altre cose per dormire I lettini Sì Per gli animaletti E per questo Che costa 40.000 È per fare il secondo piano Ah ok Quindi avremo anche il secondo piano Bello Sì Un negozio proprio enorme Un negozio gigantissimo E qua c'è lo gear stand Ma costa 17.000 E non ce li ho Però posso comprare questi bellissimi mureti Ti Ti Vabbè Me ne vado Me ne vado Me ne vado Allora Allora sì Abbiamo comprato tante cose Tutto bello Tutto bello Ma gli animali dove sono? Non sapevo che stavi pensando solo a quello Sto aspettando il momento Perché sì Abbiamo messo i papagallini Ma i cagnolini Ma i cagnolini Tipo dove sono? Arriveranno Con calma Con calma Mi sto nervosendo Stai sto perdendo un po' la pazienza Signor maialino è un po' irrequieto in questo momento Questi draghi sono fantastici Me lo compri un drago? No Con salira di dio Ma non si potrebbe neanche avere Però vedi sì Vorrei un bel pupazzo Con un drago Compro le espansioni da questa parte Così anche questa è fatta Fai vedere Fai vedere Qua ci sono questi Allora Animal bed Dai dove sono gli animali? Secondo me sono qua Scommetti che se adesso compro uno di questi C'è la possibilità di comprare l'animale? Lo spero Sì Lo spero Vediamo Tanto ce li abbiamo i soldi Ah sono pieni di soldi Big money Allora era qua Sì Compriamo quello che costa meno Perché comunque anche se li ho i soldi bisogna risparmiare Guarda Eccolo il gattino Oh mio dio Oh mio dio Sta bevendo l'acqua Ma guarda che carino È un po' magro Allora come lo chiamiamo? Dovemo dare È un po' troppo magro poverino Ebbè in un negozio di animali poverino non sarà trattato tanto bene Però sono arrivata io a trattarlo bene Ma è il nostro negozio di animali Quindi è trattato benissimo Infatti sono arrivata io a trattarlo benissimo Cioè Lì che cosa c'è? Lì che cosa c'è? È un aschi Oh Quindi adesso non è la sessione di gatti Ci sono tutti animali vari Ah esatto Allora dobbiamo dare un nome Il primo gatto lo chiamiamo Ok John Cena Contando che è così magro Sì John Ok John Ok Questo come lo vorresti chiamare? Oh mio dio che bellino Filippo Filippo? È alla faccia da Filippo Filippo il cane amico? Non fa rima Abbiamo aspettato un bel po' E adesso abbiamo altri 160 mila da spendere Ma iniziamo a vedere come sarà l'altro piano? Sì Esattamente Dai 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 che sono curiosa Cosa ci sarà? Vediamo Vediamo un pochettino Wall protection Ah vabbè sì per non casca di sotto Giustamente Giustamente Eh beh sì così non casco Vero? Guarda No casco uguale Casco uguale Pensavo mi bloccasse Allora Aria Aspetta Cosa sarebbe questa cosa? Ma dai ma costa troppo Costa tantissimo Cos'è questa cosa? Sono le cucce degli animali Le cucette Sì le cucette degli animali Cost'è un furto Eh che ti devo dire È costoso aprire un negozio di animali È davvero davvero costoso Un po' troppo Allora Eh vabbè dai Piuttosto che comprare l'ultimo animale Che so che vorresti Sì Voglio vedere dall'altra parte che cos'è Quella cosa del gear Perché sono curiosa a questo punto Così abbiamo tutto E capiamo dove spendere prima i soldi Ok Allora aspetta Oh mio Oh mio dio I pupazzetti giusto? Dammelo 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 Guardami Guardami Se clicco sinistro Guarda come si mette Oh mio dio Mi abbraccia Ma la cosa più bella che abbiamo mai visto È fantastica Lo puoi prendere Lo puoi prendere vai Oh mio dio Rimarrò così per sempre Così per sempre Ma aspetta Hooray Allora Allora Lasciami qui Ho persetti Lasciami qui per sempre Non tornerò mai più al mondo reale Voglio stare qui dentro Ad abbracciare pupazzetti per sempre Ma poi visto che c'è il doji Il panda E un altro panda Mummi Mummi cosa sarà una mummia? Monster Monster e lion Oh mio dio Sono carinissimi Allora Abbiamo il panda Capito Lo squizi Titi 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 Stai criticando la famiglia di signor maialino Sì Questo fa qualche verso Non lo so Aspetta Però è carinissimo Sì Corri Arriva Abbiamo 120.000 da spendere Uh bello 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 Dai andiamo subito Quando si tratta di spendere soldi Nei tycoon Io sto sempre in prima fila Lo so Lo so bene Abbiamo comprato quello che c'è qui dentro? Possiamo comprare albero Carino Vai Albero Carini sì Albero Porcospini E albero E albero Ok dai No è carina questa zona Ripeto mi aspettavo qualche animale un po' più feroce Però dai almeno i porcospini Scusami Sono davvero carinissimi Allora Visto che c'è il tetto a 56.000 Questo lo dobbiamo comprare per vedere se compare altro Lo dobbiamo fare per forza Sono d'accordo Sono d'accordo Ci tocca spendere tutti quei soldi in questo modo È una scelta saggia Che poi giù abbiamo finito tutto A parte tutti i peluche Sì Giù ci mancano i peluche Abbiamo finito tutto 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 Perfetto Quindi dobbiamo capire soltanto se qua compare altro Vediamo Non credo vero? No ci hanno truffato e basta Eh vabbè Avremmo comprato tutti i peluche E invece abbiamo comprato Ci sono le cucce Un tetto E questa tec Ok dai Non penso Apparirà altro Le cucce appunto le lasciamo perdere No le cucce dai Sono bruttine Non mi interessa Preferisco prendere i peluche Sinceramente voglio quelli Esatto Vediamo quanti soldi abbiamo Allora ne ho altri 11.000 Quindi abbiamo 20.000 Non escono tutti Ma ci stiamo iniziando ad avvicinare Io voglio il panda Allora Non costano troppo Guarda ti dico la verità A parte il dodge Che costa 27.000 Vieni qui Ah ma è il panda rosso questo E non l'avevi letto No c'è scritto Retailed panda Ah red tailed Non so perché Ci segue Ci segue Allora Vieni con da papà Muoviti Muoviti Vieni da papà Io adoro i panda rossi Io adoro i panda rossi Dov'è? Perché il mio è sparito? L'hai già ucciso Perché Panda Perché sto saltando Impazzito Che il mio è iniziato a saltare Aiuto Calmati Allora Panda 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 Lo sai che li ho visti Li ho visti davvero i panda rossi Tu li hai mai visti? No Sono la cosa più bella Che tu potresti mai vedere Io te lo dico Sono fantastici Sono troppo pucciosi E troppo carini Nella realtà Questo sembra più un procione Se ci fai caso Sì Ma il panda rosso È proprio Sembra un panda in miniatura Però il rosso Cioè sono fantastici Sono davvero fantastici Ti presento Miumi Guarda Oh che carino Cosa fa? Mi abbraccia Tutti i pupazzetti Che ti abbracciano In ogni caso ragazzi Ci fermiamo così Perché questo video È stato molto molto carino Mi è piaciuto un tycoon A tema animali È stata una bella idea Mi è piaciuto un sacco Grazie Grazie È stata mia Quindi sto ringraziando Ma che cosa tua L'hai fatto tu il tycoon? Sì Non è vero Ovviamente Chi è che poteva mettere Tutti questi animali Solo io No No Assolutamente no Solo io In ogni caso Fateci sapere nei commenti Se vi è piaciuto come tycoon In questo periodo Stiamo tornando a fare Un pochettino Dato che stavamo facendo Un sacco di serie E quindi stavamo abbandonando I tycoon singoli Quindi abbiamo deciso Di riportare un pochettino Spero che appreziate E ci vediamo domani ragazzi Per ragazzi il video è scusato Settaci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodio Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao